Sono il capitano Jean-Luc Picard della nave stellare Enterprise. L'orologio? L'avevo regalato a Pons. Vengo da quello che potrebbe considerare il futuro, il ventiquattresimo secolo. Butler! Butler! Come puoi essere qui? È morto da sette anni. Jim, sto morendo di fame! Quanto tempo vuoi starci a quei fornelli? Antonia! Ma di che cosa sta parlando? Il futuro? Questo è il passato. E' nove anni fa. Il giorno che le ho detto che sarei tornata alla flotta stellare. qui ne sono più in una flotta. Che ho detto? Che ho detto? Che ho detto? Perché?